Signore e signori buonasera, questa è Minecraftita, io sono Surry e dobbiamo fare una bella scorpacciata di missilozzi, di razzotti, di cose. Non ho tantissima gunpowder ma vediamo cosa riusciamo a fare, dividiamo questi per 3, ok, poteva andare molto meglio, altri 16, riusciamo a farli? Certo che sì. Ok, allora oggi signori diamo una bella smossa al cantiere che sta iniziando a diventare davvero lungo, 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 lungo e vogliamo cercare di accorciarlo il più possibile, purtroppo necessitano di diversi tipi di blocchi e per fortuna che c'è la neve, perché se non ci fosse stata la neve saremo ancora qui a cercare il quarzo probabilmente, però visto che abbiamo la neve cos'è che possiamo fare? Possiamo cercare di dare una bella smossa, richiede tantissimi tipi di blocchi, tra cui tra l'altro un altro blocco che al momento non ho e che devo assolutamente fare, la terracotta posso cambiarla? Cioè posso fare una, posso cambiare colore la terracotta? Una domanda che probabilmente ha già risposta nelle vostre menti ma non nella mia? Faccio così? No, faccio così? No, perfetto, allora bisogna partire dalla clay a quanto pare, chiaro nel senso, chiaro no, però era plausibile, avrò bisogno di portarmi a casa della clay e su detta clay andrà trasformata, dove posso prendere della clay? Del fiume? Non ne ho già pronta? Eh cacchio, mi sa di no, mi sa che non ho clay da nessuna parte, eh vabbè, come vi dicevo comunque è proprio una costruzione complicata, che richiede tanti dettagli e di conseguenza è un po' complicatina, ecco, ma va bene così, va bene così, ci disturba questa cosa? Non ci disturba, anzi ci rende felici perché il risultato finale chiaramente sarà più bello, questa è la mia speranza, vediamo se riusciamo a far sì che sia così. Allora, ho 29 pezzi di colorante arancione, che diremo che ci va bene, ho bisogno di clay, ho della white lace terracotta ma non ci interessa, noi vogliamo della terracotta, non ho proprio terracotta, ecco questo è un problema, non ho terracotta. Allora, oggi dobbiamo recuperare due cose importanti, altro warped stem perché non abbiamo lontanamente abbastanza per quello che voglio fare, ma non solo, anche della clay. Per la clay possiamo andare in queste zone, secondo me potremmo trovare, ecco qua, dei piccoli sedimenti da raccogliere, non troppo difficile, ce ne sono davvero tanti in giro, chiaramente più vicino a casa meno sono tentato di raccoglierli, va da sé. Però, insomma, qualcosina riusciamo a portarci a casa, quanti blocchi di clay riusciamo a fare? Ah, sono proprio 4, va bene, facciamone 29 a questo punto, mi verrebbe da dire, vediamo se riusciamo a crearne in questo modo. C'è un altro po' di clay qui, qua sotto, questo è clay? Questo è clay, perfetto. Allora, non ne abbiamo bisogno di tantissimo, ma un po' sì. Come dicevo, warped fungus, bisogna prenderne altro, assolutamente, terracotta, ce ne serve un pochino, non tantissima, ma neanche poca, e poi inizia il lavoro di struttura della parte un po' più, diciamo, estroversa della pagoda, chiamiamola così, cioè della parte che va verso l'esterno e che ci darà il look indistinguibile, indistinguibile? Distinguibile, non so perché, vabbè, ci darà il look della pagoda. Un po' sbatti? Assolutamente sì, ma riusciremo a fare ciò che dobbiamo. Allora, torniamo a casa perché devo anche cuocere la terracotta, cioè la clay deve diventare clay arancione e poi va messa dentro la fornace così che diventi terracotta e da terracotta arancione deve diventare, oddio, credo di sì, allora, clay, posso fare tipo orange clay, esiste? Magenta terracotta, lime terracotta, ah, ok, quindi tu prendi la terracotta e ci metti a... ok, quindi prima facciamo la terracotta e una volta ottenuta la terracotta la trasformiamo. Ha senso? Eh, ma quanto pare ha senso. Allora, oh, perché qua sta ancora andando? Che è successo? Non dovrebbe andare così random. Piccolo errore di sistema. 46 pezzi di clay verranno cotti molto rapidamente e noi ci portiamo a casa la terracotta che è assolutamente una terracotta arancione perché dobbiamo fare dell'orange glazed terracotta. Quindi la terracotta va cotta nuovamente, quindi una terracotta. 28, vabbè, questi che abbiamo qua vanno già bene. Allora, facciamo la terracotta arancione. 8, 16, 24. Ah, ma un solo colorante? Ma di lusso! Di lusso, non so perché pensavo di aver bisogno di una marea di colorante, invece ce la caviamo così. 40 pezzettini che rimettiamo qua dentro e andiamo a ricuocere. Magari diamo un piccolo pit stop così a modo di farlo in tranquillità. Questi sei pezzi in più ce li teniamo da parte, vabbè, non succede nulla. Ha raccolto? In teoria sì. Perfetto. Ha orange glazed terracotta. Ora, queste in particolare ci servono per un motivo. Perché hanno questo design che all'interno sembra tipo una farfallina, più o meno. E quindi noi ne metteremo uno piazzato in questo modo. Questo è un tappetino? No, perché non mi fa piazzare la terracotta? Ok, uno così e uno così. Così che dall'avanti, vedi, sembra tipo un pipistrello arancione, un qualche tipo di farfalla. E insomma, il bro nel tutorial la usa e noi faremo altrettanto. Quindi raccogliamo questi 37 pezzi che non so se ci bastano onestamente, però noi iniziamo a piazzarli e nel caso recuperiamo un po' di terracotta in più. Erano 40 pezzi? Credo fossero 40 pezzi. Va bene. Nel frattempo dormiamo e andiamo nel nether. Perché un'altra cosa che manca all'appello sono i Warped Fungus. E ne servono un bel po' perché vanno messi attorno a tutta, tutta la struttura su ogni livello. Quindi accetta la mano. Questi daisy li possiamo lasciare qui, come la terra. E ci cacciamo nel nether, signore e signori. Ci cacciamo nel nether. Fortuna vuole che abbiamo il bioma proprio sotto casa. Cioè sotto casa, sotto la base, sotto il portale. Potrebbe andare molto peggio. Allora, abbattiamo ciò che troviamo. Allora, molti di questi alberelli io li ho già distrutti per le shroomlight. A questo giro non è la shroomlight che vogliamo, sono i tronchi. Ma io qua tronchi non ne vedo. Andiamo di là. Non la vedo tanti tronchi. Anche questo è un bel tronco. Purtroppo, avendo bisogno dei log, quindi del blocco intero, la situazione è un po' tediosa. Parola che sto usando spesso per questo progetto della pagoda. Ma spero ovviamente che il risultato finale ci piaccia. Perché stiamo qua da dieci giorni. Un progetto super impegnativo che spero ci possa portare tanta soddisfazione. quando voleremo in quelle direzioni. Allora, 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 allora. Uh, qua c'è un po' di lava che non mi piace. Lasciamo ad atterrare magari qui. Ah, perfetto. Rompere dall'alto è molto più comodo. Prendiamo anche le shroomlight che non abbiamo tantissime a casa e sono sempre comode. Ok, abbiamo il primo stack, ma non ci basta lontanamente. Se in effetti tedioso non è neanche abbastanza per descrivere quello che affrontiamo ogni volta che vogliamo farmare sotto cazzo di legno. Fosse riproducibile... Ma cos'è qui? Una piccola festicciola privata? Eh, la madonna, tutti qua vi mettete. Perché? Ma una domanda a cui forse non voglio avere risposta. L'altra cosa che un po' mi dà fastidio di questi funghi è che quando li abbatte il legno non è che poi le foglie esplodono da sole, no? Col cazzo. Ok, siamo quasi a due stack. Ah, ma guarda dove cazzo siamo finiti. Siamo esattamente sotto la base, il portale. Ok, ok. Siamo a tre stack e comunque purtroppo non credo che bastino. Però qui vedo tanta lava che non mi fa impazzire, quindi basta. Diremo che per il momento va bene. Uno, due, tre stack e sette. Appendiamo l'ultimo alberello. Uh, bello questo. Questo è un bel fungone. Prasi che non... Vabbè, lasciamo stare. Questo sì, questo sì che è un bel fungo. Via qua, bello. Ok. Perché non sono tutti così sti alberoni? Boh. Vabbè, diciamo che con questo ci portiamo a casa un altro stack serenissimo che potrebbe bastare per continuare la nostra avventura di costruzione. Ok. E nonostante sia molto tedioso come processo quello di raccogliere materiale e ti dirò non mi dispiace perché almeno ci va a fare un po' una pausa da questo cantiere che è molto, 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 molto impegnativo. Vogliamo fare un giro di qua che arriviamo prima a casa? No, dai, torniamo a casa. Torniamo a casa per davvero. Facciamo un saltino di qua. Oh, 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 oh. Allora, il lavoro che dobbiamo fare è circondare tutti i blocchi che abbiamo fatto nella scorsa puntata con le lanterne con il Warped Fungus. Quindi è un lavoretto in realtà abbastanza tedioso come vi anticipavo. Possiamo partire dalla parte alta vedendo se riusciamo ad atterrare a terra cazzo lì. No, merda. Non so se da qui riesco a salire ancora più in alto. No, purtroppo no. Cioè il lavoro sarebbe da fare così. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. E come potete immaginare è un lavoro che si fa molto più velocemente a quel livello che non aglia da sotto. Questo è il livello più basso e ha già usato 20 blocchi. Cioè è più piccolo che richiede meno blocchi e già ne ha usati troppi. Non mi piace. Non mi piace. Chiaramente poi vanno tutti scorticiati strippati nella maniera più più cattiva in questo modo. Ora atterriamo di qui facciamo la stessa cosa su tutti i lati. Guarda quell'ultimo alberone che abbiamo trovato è stato una manna dal cielo perché altrimenti so già che toccava tornare. Invece così abbiamo un paio di stack che ce li ce li trattiamo bene insomma. Tra l'altro in teoria qua sono uno, due posso fare così 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 e così sono uno, due, tre sono quattro blocchi proviamo a vedere se ho capito come si fa. Allora faccio così e così così e così e in teoria devo avere una cosettina di là ok perfetto funziona e questo ragionamento va fatto per tutti i lati in realtà quindi tagliamo qui uno due tre e quindi mettiamo due in questo modo e due con le spalle alla pagoda perfetto va che bello una volta strippati in effetti i colori coincidono alla grande uno, due, tre ne lasciamo due liberi di qua questo perché è il penultimo livello lì sopra l'ho fatto un altro ragionamento però già che c'era ho detto ma sai cosa li piazzo già così risparmio qualche blocco che poi risparmio qualche blocco no perché questo ormai l'ho perso come faccio a recuperarlo bella domanda vabbè diciamo che l'ho perso strippiamo tutto olè sta pure diventando notte lasciamo stare lasciamo stare allora atterriamo vorrei atterrare qui in modo da poter continuare posso? diciamo che posso? diciamo che posso allora facciamo che prima piazziamo tutti tutti i blocchettoni e poi mettiamo la terracotta più facile andare per compartimenti stagni perché diventi davvero infinito come lavoro ok scendiamo giù mancano due livelli all'appello quanti blocchi ho ancora? eh non tantissimi non quanti mi piacerebbe ho paura che non bastino devo essere onesto soprattutto per l'ultimo livello è davvero grande sono 19 per 19 cioè è uno stack praticamente solo l'ultimo livello vediamo con quanti blocchi arrivo alla fine di questo cerchio e da lì capiamo se è toccato l'anel nether oppure no spero di no anche se comunque mi toccherà perché servono anche trapdoor e altri tipi di blocchi che non so se se ho in quantità sufficiente guarda un po' uno stack dai che forse ce la facciamo sì dai 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 ce la facciamo allora prima strippiamo tutto ok ultimo drop quindi dobbiamo stare un po' attenti perché magari arriva qualche scheletro ci spara non bello in effetti è notte e non ho ancora dormito questa è una roba un po' strana vero? diciamolo è un po' strana oh lì c'è un blocco di più è l'ultimo? no cazzo manca ancora un livello guarda che secondo me arriviamo giusti giusti no ok magari ci avanza qualche blocco però se non avessimo trovato quell'ultimo fungone lì non era così comodo ok va bene strippiamo anche quest'ultimo livello e vediamo dove ci ritroviamo sembra fare il conto di quante ore di gioco stanno finendo dentro questa cazzo di pagoda che va bene ripeto va benissimo però per curiosità anche solo ok e anche l'ultimo livello è andato ora questa cosa qui in realtà è già una cosa che ci dà tanto design diciamo cambia un po' l'aspetto esteriore ma quello che faremo ora con la terracotta ancora di più ripeto non so se ci basta la terracotta che abbiamo però abbiamo 24 pezzi forse riusciamo a fare 4 pezzi forse riusciamo a fare questo robo qua il livello base vediamo allora qui vanno staccati 1, 2 1, 2 e 3 stessa cosa dall'altro lato quindi 1, 2 1, 2 e 3 con 3 nel mezzo e poi ne vanno piazzati 1, 2 3 in questo modo e no merda questo non mi è piaciuto non mi è piaciuto posso dirlo per niente come torno là sopra facciamo così facciamo un bel giretto e atterriamo in maniera molto molto delicata ma incredibile incredibile 1, 2 3 ok sono 6 per lato quindi riusciamo a farlo preciso preciso 1, 2 questo salta questo salta questo salta questo va così questo va così e questo va così adesso va dall'altro lato e così per tutti i 4 lati 1, 2 e 3 quindi si ci serve anche un po' di terracotta in più un bel po' di terracotta in più una buona quantità di terracotta in più 1, 2 3 perfetto allora mi sono perso alcuni pezzettini che sono intrappolati negli intercapedini però non è un problema raccogliamo quelli che sono qui in basso che già ne recuperiamo un bel po' e andiamo a cercare della terracotta in più perché quella che abbiamo a quanto pare non ci basta non ci basta raccogli 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 perché questa non me la dai? allora terracotta per giosurri dove andiamo di bello? qui anche la terracotta in effetti è qualcosa che non abbiamo mai usato a pieno l'abbiamo trovata un po' dove è che l'abbiamo trovata? aspetta nel villaggio della sabbia dove abbiamo trovato Carmela lì abbiamo trovato della terracotta però non l'abbiamo mai sfruttata a pieno e possiamo già vedere che in realtà aggiunge tantissimo aggiunge davvero tanto quindi 1,2,3 livelli mancano all'appello quanta terracotta mi dai? 28 pezzi più 6 vediamo cosa riusciamo a fare ragazzi non garantisco nulla fortunatamente è relativamente semplice da ottenere soprattutto con un elitra a nostra disposizione allora mettiamo qua dentro allora sto facendo un po' di conti e me ne servono sicuramente 24 per il secondo livello e me ne servono ancora un po' questi pezzettini di terracotta porca vacca porca caccia vacca vabbè dai facciamo il secondo livello intanto ce l'abbiamo di atterrare con precisione anche qui pam 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 perfetto perfetto allora qui in teoria sono 1,2,3,4,5,6 ne avanzano due perfetto allora 1,2,3 allora qui credo che sia sempre 1,2,3,4,5,6 quindi ho piazzato questo, questo questo va così giusto credo di sì sì credo di sì l'importante è che si alternino molto importante ok quindi facciamo 1,2,3 perfetto anche qui persi tantissimi blocchi purtroppo però fa parte del gioco vediamo se con 8 con 8 secondo me riesco a fare l'ultimo livello quindi saliamo in cima sto guardando sempre chiaramente le immagini del tutorial per permettermi di avere una visuale sensata allora qui bene vanno messi due centrali in teoria quindi due per lato come li mettiamo? 3 e sarà così più o meno 3 di spazio tra l'uno e l'altro o due? io farei due quindi uno di qua e uno di qua così e uno lo mettiamo così e uno lo mettiamo così in questo modo sono speculari perfetto allora 1,2 e facciamo così e facciamo così ora il primo livello abbiamo fatto il secondo pure qui ma sbaglio o possiamo portarci a casa un po' di legno che è avanzato fantastico quanti ce ne servono per fare non il primo non il secondo il terzo livello allora analizziamo il terzo livello qui comunque è bello grandino noi abbiamo da parte niente abbiamo finito tutto quindi devo raccogliere l'altra clay per il terzo livello in realtà posso già fare i buchi 1 2 1 2 quindi nel mezzo lasciamo uno spazio 1 2 1 2 perfetto ho bisogno di altri 24 24 li prendiamo da qua prendiamoli anche da qua perfetto siamo a quota 27 che per il nostro lavoro va benissimo guarda che piano piano prende forma la pagoda guardala piano 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 madonna quanto piano quanto piano che prende forma mamma mia quante ore che ci stiamo passando se la sakura valley non diventa la parte più male di sto mondo mi incazzo come una belva ok no probabilmente no anche perché nessuno può battere la valle incantata bellissima bellissima allora mettiamo qui dentro 27 pezzi di clay fai partire il tutto il nostro super meccanismo di smelting e dormiamo che è il caso di dormire stiamo a fare una cappellata allora 24 pezzi di terracotta è esattamente ciò di che abbiamo bisogno perfetto ed eccoci qua finalmente finalmente ok sta venendo davvero bella manca ancora il tetto e sta venendo già molto bella quindi è il famoso pain in the ass questo qua però no ho pensato male è il famoso pain in the ass ma ce lo facciamo andare bene ok facciamo così e così e così e così in realtà non me ne servivano 24 me ne servivano molto meno giusto? me ne servivano 16 sbagliato? non mi andate a fare i conti si top perfetto ci avanzano anche 8 che potremo usare spero in futuro se saliamo in cima la nostra super spirale di creeper che è il caso direi guarda provo a atterrare provo a atterrare lì provo a atterrare lì così ce lo facciamo ok bella bella sta prendendo forma ancora non come gradirei ma sta prendendo forma poca vacca se è lenta come roba lo so lo dico in ogni puntata perché da quanto siamo qui vogliamo contare? no forse è meglio non contare eroe da principiante ragazzi non contate quante ore ci vogliono non contate quante ore ci vogliono perché se no è un casino queste puntate qui mi sembra tanto mi sta costruendo tipo con il lego no tipo metti un leghino alla volta di qua di là tanta tanta costruzione non vedo l'ora di finire questa pagoda per andare a fare proprio una sessione di mining di decompressione totale perché serve comunque per il momento è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione e noi ci vediamo domani alle 7 con la prossima puntata di Minecraft Ita ciao tru tru tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti